Sono pacchetti turistici rivolti al cicloturista e al turista in genere che vuole affrontare una vacanza alternativa tramite l'utilizzo della bicicletta e vedere un Val d'Arno ad una velocità più rallentata. Arrivano i pacchetti turistici legati al progetto Val d'Arno Bike Road dedicati a tutti gli appassionati delle due ruote. Continua infatti a crescere il progetto legato al cicloturismo nella vallata dall'installazione dei cartelli segnaletici che rendono ben individuabili 240 km di itinerari, adesso si passa alla creazione di veri e propri pacchetti turistici. Si parte dalle balze, si parte dalla Sette Ponti, si entra nell'area mineraria perché il progetto Val d'Arno Bike Road è il primo progetto che può entrare con una calendarizzazione fatta insieme a Enel, può entrare dentro l'area mineraria, quindi un posto straordinario, unico in Italia. Per noi il turismo sostenibile è sempre più segno di apprezzamento di quelle che sono le eccellenze che sono presenti sul territorio, nel caso specifico ovviamente abbiamo un patrimonio costituito dai nostri impianti che sono presenti nell'area del Val d'Arno, nella fattispecie l'area mineraria di Santa Barbara e in più ci sono i bacini della penna e di levane che con questo nuovo pacchetto di offerte avranno modo i turistici a poter apprezzare.